Che razza di mondo è questo? C'è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi Adesso musica 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 E voi sani Che cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità Stanno guardando il burrone Dove stiamo tutti precipitando La libertà non ci serve Se vogliono mettere il coraggio Di guardarci in faccia Di marciare con tu Di bere con tu Di dormire con tu Sono proprio i vostri testi sani Che vanno coltato nel mondo L'osso della catastrofe Che vanno coltato nel mondo Che vanno coltato nel mondo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.